Quali sono i suoi pensieri più diretti dopo la fine della partita? Da un punto di vista fisico ci hanno messo molto in difficoltà, soprattutto sulle traiettorie aeree, su delle situazioni che abbiamo sofferto molto. Il grande rammarico è non aver trovato, comunque in una partita negativa, non aver trovato il gol nelle due grandi occasioni che abbiamo avuto. Però comunque complimenti al Tottenham. Beh, ovviamente credo che hanno giocato meglio di noi e che hanno apprezzato quello che hanno ottenuto. E credo che, prima di tutto, abbiamo sofferto da un punto di vista fisico. Ci hanno creato molti problemi da l'erialismo. Ovviamente, avendo detto, anche se abbiamo avuto una notte negativa, abbiamo regretto che abbiamo avuto due grandi chance di scoprire. e non abbiamo potuto farlo. Quindi, questo è l'unico regret che abbiamo avuto. Crede, mister, che sia ancora possibile ribaltare il risultato e quanto difficile sarebbe farlo? Io credo che, onestamente, sia molto difficile. Però noi siamo l'Inter e comunque vogliamo cercare di, innanzitutto, vincere la gara di ritorno. Poi il calcio è bello anche per questo, quindi cercheremo sicuramente di vincere, cercare di ribaltare questo risultato. Anche se, onestamente, vista il risultato di questa sera, è un'impresa molto difficile. Noi, tutti sappiamo che sarà molto difficile. È una situazione di affrontare. Ma, alla fine, siamo l'Inter. E, prima di tutto, vogliamo vincere la seconda legge. E, come tutti sappiamo, il futbol è un bellissimo gioco. E non lo sai mai cosa può succedere. Ma, come ho detto, siamo completamente aware che sarà molto difficile. Nella conferenza ieri ha detto che, insomma, non avrebbe messo in atto nulla di particolare per fronteggiare Gareth Bale. Crede che questo sia stato un errore da parte sua? Io credo che il Tottenham abbia giocato una grande partita come squadra. Gareth Bale ci ha messo in grande difficoltà, solamente in maniera particolare sul primo gol, dove ovviamente ha sfruttato la sua struttura. Però io credo che, seppur essendo un gran campione, non sia stata la vittoria di Gareth Bale, ma la vittoria del Tottenham. Io credo che Gareth Bale è un grande gioco, ma credo che questa notte fosse una buona giornata per la squadra. Ovviamente, Bale ci ha dato problemi sul primo gol, ha esplorato la sua fisica. Ma come ho detto, credo che Tottenham ha avuto quello che hanno avuto come squadra. Sì. Credo che la motivazione delle due squadre è stata diversa? Si, sembra che hanno avuto un'esperienza diversa da noi in questo gioco. Io credo che abbiamo incontrato una squadra che stava probabilmente nel suo momento migliore in assoluto della stagione. Ed è successo quello che noi avevamo lavorato affinché non succedesse, cioè farli partire forte. Purtroppo abbiamo preso gol nei primi dieci minuti, secondo me accentuando ancora di più quello che era anche la loro esaltazione nel fare la partita. E questo secondo me ci ha penalizzato molto, perché comunque prendere gol nei primi dieci minuti era proprio quello su cui avevamo cercato di lavorare che non succedesse. Ovviamente, credo che stavamo facevano il tottenimento nel peggio momento, perché stanno passando la migliore fase della stagione. Vogliamo evitare quello che succederà alla fine. Quindi concedere gol in i primi dieci minuti, ci hanno fatto il nostro obiettivo ancora più difficile. Quindi i primi dieci, i primi di gioco, hanno penalizzato il mio team. Grazie. 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 Grazie a tutti. e le unitite che abbiamo avuto potevano comunque rendere più aperto il discorso del passaggio del turno. Come ho detto, non avevo tantissime scelte che hanno fatto il gioco più difficile per noi. Come ho detto, il Tottenham ha avuto il risultato che abbiamo avuto. Ciò che mi ricordo è, come ho detto prima, le due chance che abbiamo avuto e non abbiamo potuto convertirlo in un gioco. Io credo che questo tipo di gioco può essere importante per un gioco come Kovacic. Io credo che sono importantissime. Matteo rappresenta il nostro centrocampista del futuro. In questo momento, secondo me, sono tutte cari di altissimo coefficiente di esperienza per un ragazzo così giovane. Io vedo che Matteo Kovacic sarà molto importante per il nostro futuro. E credo che per un gioco così giovane, le gioco come questo sono molto importanti in termini di esperienza. Grazie.